Ciao a tutti, sono Massimo Poloni, mi trovo da Stago e ieri con Iole e noi e noi Marischi abbiamo sperimentato un sistema che è stato veramente sensazionale, il Personal Art Painting. E' praticamente la possibilità di mettersi davanti a un foglio bianco e lasciare fluire da quello che è la nostra mente un flusso di pensieri che si materializzano sul foglio e ci dà effettivamente una risposta a quelli che sono i nostri grandi poesiti esistenziali. E devo dire che a me è servito molto perché ieri ho visto materializzarsi sulla carta quello che è il mio obiettivo di vita e per me vederlo nero su bianco è stata una grande soddisfazione ma soprattutto una certezza, quella certezza che fino ad oggi mi è mancata. Quindi ringrazio Iole e ringrazio veramente per poter fare questa testimonianza a tutti voi e vi invito a disegnare, a mettervi con il foglio e la penna o la tecnica che preferite ma comunque lasciar parlare il vostro inconscio perché alla fine il concetto è questo, l'arte è la possibilità di comunicare i grandi segreti che ci portiamo dentro. Ciao a tutti, Massimo.